Tra amici. Ah lo sai che stamattina ho portato il cane dal veterinario perché morde mia moglie. Ah sì? E l'hai fatta battere? No, gli ho fatto affilare i denti. Una mattina Pierino si presenta a scuola con la gabbietta del canarino. La maestra gli fa. Ma Pierino perché hai portato la gabbietta col canarino stamattina a scuola? Questione di vita o di morte maestra? Eh cioè? Che significa? Stamattina ho sentito mia madre che sussurrava piano a mio padre. Appena Pierino va a scuola ti mangio l'uccello. Due sposi genovesi partono per il viaggio di nozze. La prima notte lui si sta preparando al bagno e lei è già sul letto e lo chiama. Giovanni, caro, io sono senza mutande. E lui? Eh no cazzo, non cominciamo con le spese. Tra due amici. Ma lo sai che una volta sono riuscito a far l'amore per un'ora e tre minuti? Ah sì? E quando? E quando è cambiata l'ora legale. Ah ma la sai l'ultima? Mio suocero mi ha dato in gestione il suo piccolo allevamento che c'ho. Ma io non so distinguere il toro dalla mucca. Dice ma guarda c'è un metodo infallibile. E cioè? E cioè guarda, prova a mungerli tutte e due. E quello che sorride è il toro. La mamma? Svegliati, pigrone, svegliati, devi andare a scuola. No mamma, no mamma, non ci voglio andare. Tutti i professori ce l'hanno con me e i ragazzi mi fanno tanti dispetti. Perché dovrei andarci? Figliolo, sei il preside. Se ti è piaciuto il mio video e vuoi vederne altri, iscriviti al mio canale YouTube cliccando sull'icona qui a destra. Ah dimenticavo, è gratis.